Oggi parleremo di come effettuare il color grading da un file CLog I file CLog sono quelli che per esempio fa la Canon R, la R5, R6 ecc Allora come vedete qua il file è tipico CLog Per fare il color grading selezionate il file Andate qua dove c'è questa specie di triangolino arcobaleno Qua c'è No Correction, ok? Selezionate le color wheels Allora dovete fare un cerchio orario sempre Io lo faccio sempre così Quindi abbasso un po' di qua il master Qua gli highlights, vediamo Le tiro un po' giù anche queste Questo lo abbasso Vediamo, si alza un po' gli highlights No, andava bene così Shadow da questa parte Li metto un po' di colore Vedete se li alzate lo colora tantissimo Mi metto un po' di colore Ritocco un attimo il master Ok, adesso vediamo Così è col color grading fatto Questo è un video del canale della mia compagna Così invece era il file CLog originale Quindi CLog Color grading fatto Poi questo uno lo fa a sua discrezione A suo piacimento Se il video vi è piaciuto mettete un bel like Iscrivetevi al mio canale Ciao 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 c'è